Come Mattarella, ma il suo compito si annuncia molto più semplice. Per la formazione della sua giunta, il neogovernatore Massimiliano Fedriga ha dato avvio alle consultazioni con i singoli partiti che formano la coalizione di centrodestra, uscita vincitrice dalle elezioni regionali. Nel pomeriggio sono arrivati al Palazzo della Giunta, in Piazza Unità, Sandra Savino con il futuro vicepresidente Riccardo Riccardi per Forza Italia, Fabio Scocci Marro per Fratelli d'Italia, anche lui potenziale assessore come Sergio Bini di Progetto FWG e Renzo Tondo di Autonomia Responsabile. Il lavoro con le forze politiche sta procedendo, come ha confermato lo stesso presidente. Abbiamo iniziato la discussione ieri, oggi farò l'incontro singolo con le varie forze politiche di maggioranza e nella giornata di giovedì, notte, vorrei chiudere all'ultimo perché vorrei farlo sapere alla stampa il 18 e non prima. Dunque è confermata la presentazione del nuovo esecutivo venerdì 18 maggio con una conferenza stampa che sarà seguita in diretta da Telequattro con uno speciale ring a partire dalle 10.55, ovvero dagli ultimi minuti di Sveglia Trieste. Sui nomi, presidente e vertici dei partiti restano abbottonati, anche se buona parte dei 10 assessori è già praticamente stabilita. Oltre alla vicepresidenza il forzista Riccardo Riccardi, Fratelli d'Italia ha già indicato il suo coordinatore regionale Fabio Scocci Marro e Progetto FWG il suo leader Sergio Bini. Per la Lega accerta la presenza in giunta del vice sindaco di Missionario di Trieste Pierpaolo Roberti, molto quotata la consigliera Barbara Zilli, così come Stefano Zanieri, il più votato a Pordenone, e Graziano Pizzimenti, ex sindaco di Marano. La civica di Bini, forte del buon risultato, punta a inserire anche un altro ex sindaco, quello di Cividale Attilio Vuga, mentre a Forza Italia toccherebbe un altro assessorato che dovrebbe andare a una donna, forse ad Angela Brandi. Possibile una delega d'autonomia responsabile, in ballo con Alessandro Colauti o Paride Carnielutti.